Ha preso il Via Salerno il Festival del Calcio Italiano, l'evento organizzato dal giornalista Donato Alfani e che quest'anno si svolgerà interamente nel Salernitano. Quest'anno alla fine è diventato ed è un grande contenitore, quindi dove ci sono all'interno gli sport marketing awards, le giornate professionali, gli sport d'autore, la sezione letteratura sportiva e poi ovviamente il gran gala del calcio italiano, ossia gli Italian Sport Awards. La rassegna si è aperta con le giornate professionali dello sport, un momento di incontro e di confronto sul sistema sportivo italiano. Il primo appuntamento è stato dedicato a sport, media e di intrattenimento e ha visto protagonista anche la responsabile della redazione sportiva di 8 Channel, Sonia Lantella, che soffermandosi sul tema dei diritti televisivi ha presentato il modello dell'emittente regionale fondata dall'avvocato Reste Vigorito. 8 Channel tra l'altro sarà protagonista anche della serata di gala del 19 dicembre, nel corso della quale saranno premiati tesserati delle principali realtà calcistiche italiane. Partiamo dalle due squadre che rappresentano la campagna nel massimo campionato di Serie A, ossia la Salernitana perché giochiamo in casa e poi Napoli. Anche il Benevento è una squadra che sarà super premiata, c'è l'Avellino, abbiamo la Turris, la Juve Stabia, il Giuliano, la Gelbison, quindi ci sarà una vera e propria sfilata su Red Carpet, una passerella anche del calcio campano.